CNI ECIPAR è il centro di formazione professionale del sistema CNA di Modena che svolge attività formativa per imprese, apprendisti e giovani che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro. L'offerta formativa di ECIPAR copre a 360 gradi i fabbisogni dei potenziali cursisti e propone 5 categorie in cui individuare il percorso formativo più adatto alle proprie esigenze. Con Scuola d'Impresa, ECIPAR offre una serie di percorsi indispensabili per tutti coloro che intendono sviluppare competenze necessarie alla gestione di un'attività o per ricoprire un ruolo imprenditoriale. Con Formazione Abilitante, ECIPAR fornisce percorsi specifici rivolti all'abilitazione tecnica, alla preparazione di esami e al conseguimento di attestati. Dal 1992 ECIPAR organizza corsi per il settore estetico seguendo la normativa nazionale e può essere per questo considerato il punto di riferimento per chi intende accedere a questa professione e per chi intende specializzarsi. Con aule dislocate su tutto il territorio provinciale, ECIPAR affianca le aziende nella corretta formazione degli apprendisti partendo dall'organizzazione più idonea in funzione dell'ambito contrattuale di riferimento e attraverso una formazione certificata che risponda a pieno alle esigenze del caso. Con Formazione Aziendale, ECIPAR attraverso il suo personale specializzato accompagna le aziende nel percorso ottimale per ricevere i finanziamenti utili a sviluppare le proprie risorse umane. Per garantire serietà e qualità delle iniziative formative, ECIPAR ha creato una rete di valore fatta di persone che giorno dopo giorno contribuiscono al valore aggiunto di un'azienda che oggi si pone tra i principali centri di formazione della provincia di Modena.